C'è chi sabato sera cerca la festa che finisce E c'è chi sabato sera cerca la festa che non finisce Noi cerchiamo quella che non finisce E tu? Qui il centro di tutto è Gesù Tutto il resto, catedrale, assemblee e predicatore Sono solo signum et rimandum dell'unica verità Allora iniziamo Con il riprendere quello che abbiamo detto l'ultima volta La Santa Comunione Essendo che è un pregetto della Chiesa Bisogna almeno farla una volta all'anno Ora vedremo Se si può E come si può vivere in comunione con Dio E poi facciamo, se ci arriviamo, un piccolo accenno Sul rapporto Dell'eucaristia e la salvezza Ora che vedo tutti questi giovanotti qua Mi viene in mente Che Per parlare dell'eucaristia Non veniremo mai Perché per parlare dell'eucaristia Ci sarebbe la parabola Del figlio prodigo La parabola Della pecorella smarrita Vi ricordate? Abbiamo parlato Di queste parabole O il discepolo di Emmaus Che quando ritorno alla comunione Con Gesù Aprono gli occhi Diciamo Le cose Ecco più necessarie Per capire alcuni aspetti Allora quando noi diciamo In siciliano Andiamo a fare la comunione Cioè ci dobbiamo fare la comunione Se potessimo accompagnare questo Con un gesto La comunione Con Gesù Eucaristia Però vedete in questo caso Non è la parola Eucaristia Ma è la comunione Quindi una comunione Di vita con Dio Qualcuno ci potrebbe dire Che se tu termini comunione Se l'ho inventato la Chiesa Ma la Chiesa non inventa Nulla Se non tutto ciò Che prende Dalle Sacre Scritture Cominciamo a leggere Qualche passo Nell'Antico Testamento Esodo 16 Allora il Signore Disse a Mosè Ecco Io sto Per far piovere Pane dal cielo Per voi Il popolo uscirà A raccoglierne Ogni giorno La razione Di un giorno Allora E ti prendiamo Il titolo Prima Quante volte Bisogna fare la comunione All'anno Secondo il progetto Una volta all'anno Devo letto Ogni giorno Andrà a raccogliere La razione Di questa manna Che scendeva dal cielo Questo pane Ecco Io sto Per far piovere Pane dal cielo Il popolo Uscirà A raccoglierne Ogni giorno La razione Per un giorno Vedete Questo è L'Antico Testamento E figura Del nuovo Non possiamo dire Che si riferisce Soltanto All'Eucaristia Perché Gesù Ha detto I vostri padri Mangiarono La manna E Morirono Invece Gesù dice Io sono il pane Vivo Disceso dal cielo Chi mangia di questo pane Vivrà In eterno Allora Per questo Si dice Che figura Tutto ciò Che nell'Antico Testamento Era detto Per la maggior parte Delle volte Raffigurava Quello che poi Si deve avverare Con Gesù Però Quello Che interessava a me E che qui si dice Ogni giorno Che raccoglievano Questa razione Di pane Andiamo subito Al Nuovo Testamento Cosa diciamo noi Nel Padre Nostro A proposito Di pane Eucaristico O di volte Di numero Quanto comunione Dobbiamo fare Cosa diciamo Dacci Oggi Il nostro pane Quotidiano C'è scritto Annuale Quotidiano Però la Chiesa Perché dice Una volta all'anno Qualcuno Dimentica La parola Almeno Ora passo passo Lo vediamo Allora ci sono Dei passi Matteo e Luca Matteo dice così Dacci oggi Cioè Gesù Nel Vangelo di Matteo Dice O meglio Dice Quando pregate Dite Così Per il fatto Che Gesù Non poteva dire Queste parole Perché a un certo punto Si dice Rimetti a noi I nostri debiti Come noi Rimettiamo I nostri debitori Gesù Non era peccatore E quindi Siamo noi Che diciamo Questa preghiera Che Gesù Ci ha insegnato Dacci oggi Il nostro pane Quotidiano Vabbè ma In Luca Mette A sottolineatura Dice Dacci Ogni giorno Dacci ogni giorno Il nostro pane Quotidiano Fa Giuseppe Che è il biblista Vedete In spagnolo Si dice La cabeza Cioè La testa Tanta Quindi là Ci fanno Un sacco L'informazione I biblisti Sono temuti Perché Sanno tutto Nella Bibbia Allora Già lui Faceva così E Loro fanno Molta attenzione Alla scrittura Perché Quando io Ho bisogno Di un'informazione Scientifica Molto più approfondita E lo gli dico Come scritto in greco Sta cosa funziona Siamo sicuri E Funziona Allora Poi c'è un altro passo Di Dacci Degli apostoli Che dice A proposito Della Quantità di tempo Cioè Quando Ogni quanto Erano assidui Nell'ascoltare L'insegnamento Degli apostoli E Nell'unione fraterna Nella frazione Del pane E nelle preghiere Ogni giorno Ogni giorno Tutti insieme Frequentavano il tempio E spezzavano il pane A casa Prendendo i pastri Con letizia E semplicità di cuore Quindi qui dice Ogni giorno Tutti insieme Frequentavano il tempio Spezzavano il pane A casa Quindi ogni giorno Frequentavano il tempio Però spezzavano il pane A casa Quindi qui Qui fa la differenza Poi San Paolo Lo spiegherà ancora più Dettagliatamente Che c'è distinzione Tra Il pane Che si mangia a casa E quello che Si mangia Quando ci si aduna Raduna Ecclesia Si sta insieme Per Segno di comunione E quindi Comunque Richiama L'insegnamento Ogni giorno Al tempio Per dire che In questa vita Voi a scuola Quando ci andate Una volta la domenica Quando ci andate A scuola Quanti giorni Tramina domenica No E se non ci andate La mamma Che fa la testa Come fra Giuseppe Così Perché Dobbiamo imparare Come si fa A maturare Nella vita Così Dio Attraverso la chiesa E la madonna Ci fa la testa Tanta Come fra Giuseppe Come fra Del Mario Che studia anche lui a Roma Forse saranno Quelli che studiano a Roma Io ando a studiare Ma Io sono in casa eccezionale Lì a Roma C'è la testa più piccolina Quindi L'intenzione Di Maria Che ci vuole portare a Gesù E quella Di insegnarci Come Ci barci Di Gesù Che è La nostra vita eterna Però Già una volta la domenica Uno qualcosa la ricorda A tempo di guerra Non so se si mangiava Una volta la settimana Non so Se andrebbe molto male Una volta la settimana Comunque Però Meglio di niente Ma qui Tutto quello che io leggo Sottolinea Dall'Antico Testamento Dal Nuovo Testamento I padri della Chiesa I padri medievale I moderni E i posti moderni C'è Attuale Anche il Magistero Tutti i giorni Io non voglio bastonare Nessuno Perché prima Dovrebbe bastonare Da me Quando Uno tutti i giorni Non riesce a andarci Noi abbiamo L'obbligo tutti i giorni Però se a volte Capita Che tu non riesci Insomma Dio non è col bazzucco Che ti ammazza Vediamo che diceva San Francesco d'Assisi Quello che c'era L'estima Oggi è San Francesco di Paola 2 aprile Però San Francesco di Paola È stato uno Innamorato di San Francesco d'Assisi Che a sua volta Questo era innamorato Di Gesù Nel senso spirituale Allora San Francesco d'Assisi Dice Cioè Le fonti Dicono di San Francesco Francesco Ardeva D'amore Per la santa Eucaristia Ritenendo Grave Disprezzo Non parteciparvi Ogni giorno Cioè Avete capito O forse Si sente male O io non mi sono spiegato bene Vediamo chi me lo ripete Cosa ha detto E ci sta fine Ripeto San Francesco Ardeva d'amore Per la santa Eucaristia Ritenendo Grave Disprezzo Non parteciparvi Ogni giorno È una massima Ora Arriviamo alla chiave Centrale Di quello che Volevo dirvi Una volta al giorno Una volta alla settimana Una volta all'anno Perché La Chiesa Fa quel precetto Che dice Una volta L'anno È necessaria La comunione Per un cristiano Santo curato D'Ars Padrono Dei preti In tutto il mondo Dice così Perché la Chiesa Ci dà il comandamento Di comunicarci Una volta all'anno Lui si pone anche la domanda Perché la Chiesa Ci dà il comandamento Di comunicarci Una volta all'anno Questo Comandamento Non è fatto Per i buoni cristiani Esiste Soltanto Per i cristiani Busillanimi E indifferenti Verso la salvezza Della loro Povera anima Quindi Se voi Andate a scuola Una volta all'anno Come sarete Ottimi studenti Oppure Allavolemo sebbene Come si sono Dalle nostre parti Neanche se Arrivareste a prendere Manco 5 Manco 4 Cioè 0 Però Se almeno Non per mantenere Il titolo di cristiano Almeno una volta all'anno Io non vi preoccupate Fino a 15 anni Eravamo due cose Nettamente Differente Io E la comunione Con Gesù Congilio Vaticano II Se ci fate caso I vescovi Spesso Quando citano Questo documento Tutti quanti E non solo i vescovi I sacerdoti E non solo i sacerdoti I frati Ogni buon cristiano Cattolico Apostolico Romano Del rito latino Quando sente Il concilio Vaticano II Dice così Il concilio Il sacro concilio Esorta Caldamente I pastori D'anime A distruire Con cura I fedeli Nella catechesi Faccio una piccola Parenza Stasera mi hanno chiamato Ciò guarda Ti faccio sentire Il tuo vescovo Che sta parlando In tv Forse Perché oggi Ha ordinato Sagliano Monsignor Sagliano Ha ordinato a Crotone Un altro vescovo Che è stato qua Anche il cerebrale Io gli ho fatto Il diacono E mentre che Guarda che te lo faccio sentire Il vescovo Io sentivo Del telefono Sentivo Lui che parlava in tv E diceva Insegnare 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 Noi dobbiamo insegnare I pastori Devono insegnare Insegnare Abbiamo fatto la fogna Oggi Quindi ero concentrato A fare lì Al convento A stoppare la pugnatura Insomma Che siamo rimasti a piedi E quindi Mi ho ripassato un po' La catechesi Allora Quando ho sentito il vescovo Che diceva per tv Insegnare Insegnare Mi passava tutta la stanchezza L'ho presa la cosa E mi sono ripassato un po' Tutto Già li sapevo Però Oggi Le voglio dire bene Perché sta cosa Ci deve andare in testa Allora Perciò Il sacro concilio Esorta caldamente I pastori d'anime A distruire Con cura I fedeli Nella catechesi Per questo Stagliano Il vescovo E quindi La chiesa Di noto Vuole che noi facciamo Ogni primo sabato del mese La catechesi Per istruire i fedeli Perché partecipino A tutta La messa Specialmente La domenica Quindi Tutta la catechesi Deve essere Per fargli capire Che devono partecipare Tutta Tutti Tutta l'assemblea A messa Specialmente La domenica E le feste Di precetto Poi siccome c'era Una volta un professore A volte anche il professore Come anche i frati Possono essere distratte E mi diceva Vabbè Venire a messa Questo canonista Di quelle Però non c'è bisogno Di fare la comunione Il professore Ma c'è il concilio Che dice questo No 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 Non l'ho sentito mai Questa cosa Ma io l'ho letto No 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 Guardate cosa dice il concilio La domenica Infatti I fedeli Devono Non è eventualmente Devono È imperativo Se vogliono essere cristiani Altrimenti sono liberi Di non farlo Però se vogliono Aderire agli insegnamenti Di Gesù Che dice Che ascolta la chiesa Ascolta me Che non l'ascolta Non mi ascolta Allora La domenica Infatti I fedeli Dice il concilio Vaticano II Nella Sacrosanctum Concilium Numero 106 Devono riunirsi In assemblea Per ascoltare La parola di Dio E partecipare All'Eucaristia Quindi non solo Ascoltare la parola di Dio A messa Ma devono Partecipare All'Eucaristia Ma Oh Qui ci salviamo Ha detto un pochettino Una volta alla settimana Almeno Così Tutti i giorni E un pochettino Ma continuo Il catechismo Della chiesa cattolica Che è figlio Del concilio Vaticano II Dice così La chiesa Raccomanda Vivamente Vedete La diceva Raccomanda Caldamente Come il catechismo Della chiesa cattolica Vi ricordate il mattone Così Era un libro tanto E figlio del concilio Dice così La chiesa Raccomanda Vivamente Ai fedeli Di ricevere La santa eucaristia La domenica E i giorni festivi O ancora Più spesso Anche Tutti i giorni Per essere Un buon cristiano Noi parliamo Di cristiani cattolici Perché poi ci sono I cristiani cattolici Indipendenti I cristiani cattolici Romani Noi Poi ci sono I cristiani cattolici Indipendenti I cristiani cattolici Ecumenici I cristiani cattolici Insomma Ognuno oggi Si inventa quello che vuole E Poi i vescovi Sparano E poi dicono Che sono E che non sono così E quindi per essere sicuri Facciamo una piccola parentese Che già conosciamo L'eucaristia Che noi dobbiamo prendere Diceva Giovanni Paolo II Citando le parole di San D'Ignazio Devono ciparsi Di quell'eucaristia Che viene Amministrata sotto I vescovi E coloro che sono delegati Cioè i sacerdoti E però non solo Perché tanti anni Sacerdoti dei vescovi Tante chiese separate Però per essere più sicuri Dice parimenti Sotto Il ponte del Vice Romano Sotto il Papa Quindi quell'eucaristia Che viene celebrato Sotto i vescovi Sotto il Papa Attualmente Papa Francesco Quello è sicuro Lì Se ci andiamo una volta all'anno Concediamo il titolo di cristiani Se ci andiamo una volta alla domenica Già È una cosa Insomma seria Se ci andiamo tutti i giorni E ci cipiamo Sotto l'eucaristia Già Ci sono più possibilità Più possibilità Di farci santi Qual è il comandamento Che ci dice Di ricordarci le feste Vi ricordate? Ricordati Di santificare le feste Com'è fatto Dio? Dio com'è? Che numero c'ha Dio dentro? Che numero c'ha Dio? Tre Quindi Terzo comandamento Che è l'unico Che dice Ricordati Cioè Non tu scordare Cioè Non te lo scordare Non toglielo dalla corda Appendilo Qua a qualche parte Di santificare le feste Perché se noi Non li santifichiamo E pensiamo Sempre ai nostri affari Le cose Che noi abbiamo imparato Basta solo Se ce le scordiamo Cioè Si rompono le corde E cadono E accade preciso Uguale Quando uno fa l'esame Da 30 all'ode Si prepara Tutta la notte Studia Poi magari la mattina Vomita Perché studia tutta la notte Non ce la fa Però le cose le sa Poi arriva là Professore di domanda Tutti i ricordi Tutto a memoria Poi finisce l'esame Ti dimentichi tutti Dopo quant'anni Anche se uno è laureato Non capisci Una mazza Del suo titolo E così per i cristiani Se non ripassano Con la preghiera E non vengono a messa E non si cibono spesso Della santa comunione Dove prima di arrivare Alla comunione C'è la parola di Dio Che viene prima Dell'eucalistia Perché Questo è il mio corpo E dopo dipende Del corpo di Cristo Senza parola Non c'è eucalistia Certo Solo con la parola Sarebbe solo una cacca E non è la vita Quindi Vanno insieme Se per esempio Prendiamo una macchina Ok Viaggiamo con la macchina Con la mamma Con il papà Con lo zio Con il cuginetto Con la Con chi c'è la macchina Ok E a un certo punto Dobbiamo andare a Milano Anzi In Germania Ancora più o più lontano Ecco la macchina Mi ferma una volta all'anno Che succede? Non ci arrivo in Germania Cioè Appena si finisce Mi devo fermare Appena si finisce Mi devo fermare Quindi Così quando noi mangiamo Quando finisce l'effetto Dei carboidrati A meno i carboidrati Che sono del pane Dei patate Eccetera Questi qua Mi servono per avere l'energia Per andare avanti Quindi la comunione Ci serve come cibo Perché noi possiamo Essere più forti Oppure Mettendo in casa Che c'è un bambino Che sta annegando Ok E nel mare Che nuota Ok Aiuto 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 Lo mettiamo Nella nave Un volamo Da una culla Ce la mettiamo In una culla E poi però Ci abbiamo da fare Dobbiamo tanto Tanto lavorare Perché lavoro Il bambino Dall'uomo E' importante Più di tutto E ci dimentichiamo Di dare il mangiare Al bambino Che fine fa Sto bambino Se non mangia Guarda E non è che Ci può dare il mangiare Una volta alla settimana Muore Ha visto Pure il bambino Con la bocca Dei bimbi Ed è lattante Affermato potenza Certo Con questo Non stiamo dicendo Che se noi Tutti i giorni Non andiamo a messa Moriamo Però Diciamo che siamo Diciamo di essere Meno forti Questa leggo una cosa L'ultima E poi facciamo La canzoncina L'esempio Della persona Che non va mai Oralissimamente A cena Dei suoi genitori Ecco Per esempio Un papà E una mamma Qua ne vedo tanti Che Lavoro una vita Per portare i figli A una certa altezza Un certo spessore Un certo spessore Di maturità umana Poi i figli crescono E non vanno più a trovare Che ho fatto un sacco Che ho fatto un sacco di sacrifici Per portare i figli A compimento Per portare i figli Insomma grandi E poi i figli Mangano a telefonare Niente Allora così noi Magari Qualche telefonate Ci qualche preghiera La facciamo Diciamo Se è uno Se è uno Se è tre Questo è il numero di Dio Quando volete Trafondare a Dio Ricordatevi Se è uno Se è tre Se è uno Se è trino Ecco questo qua Però Se Si trova Nello stesso paese E tuo figlio Per esempio Non viene mai Come ci rimane Mare Così Domine a Dio Così il Signore Ci rimane male Quando i suoi figli Non ci vanno A trovarlo Almeno una volta A settimana Ci rimane male Possibilmente Tutta la vita Viviamo Come io stavo facendo Fino a 25 anni La casa del padre Ci andavo solo Per cercare le ragazze Vedete come ero Combinato Invece Ho capito Che ci devo andare Per cercare la vita eterna E la felicità eterna E dare gioia a Dio E anche Pace Al mio cuore Quindi Quando noi Oppure sento qualcuno Mamma mia Mio figlio Non viene mai a trovarmi Nei passaggi Non gli ho avuto stop Mio figlio Non viene mai a trovarmi Tu disgraziato Si è dimenticato del padre Subito io Che non lo conosco Ma non l'ho mai visto Mi viene in mente Subito una domanda Scusa ma lei Ci va a messa la domenica Almeno No perché io Ho tante cose da fare Eccetera Ma tu come ci rimane Che tuo figlio Non ti viene mai a trovare Ma sto male Ma proprio Ma sto male E così Dio Sta permettendo questo Per farti capire Se tu stai male Se tu stai male Fu pure tu pagi adendo Quando stai male Perché tu l'hai abbandonato Perché quello che sta male Significa che tu non ci vai Rischi di perdere tutto Sapete quanta persona Ho visto ritornare in chiesa Per questo esempio Questo è un esempio Che non sto facendo La catechese a voi Io Con il vescovo Siamo d'accordo Su una cosa Su tutto Ma su questo particolarmente Che io qua a voi Non vedevo fare la catechese Quello che io sto facendo a voi È semplicemente Insegnarvi come fare voi La catechese Che qua sono tutta gente Più o meno matura Che conosce Gesù Quando sono venuto Mi pare che non eravate Neanche voi Gli ultimi arrivate Eravate là Che già Le risposte le davate Quindi Chi viene qua Io Ci tengo Che non è tanto Che deve apprendere Anche Ma soprattutto Puoi distribuire Quello che ha appreso Padre Mario Cugliotta A Modica Mi diceva Tu mi piaci E questo mi piace Lo chiamo a Gesù poi Perché tu non pensi A evangelizzare Ma tu pensi A fare Apostoli di Gesù E certo Ci sono tutta cosa Che a fare solo Per questo ci sono Vedete Da istita Da un po' Disgraziato Perché mia nonna Così mi diceva Disgraziato Disgraziato Poi Mi ha messo la mano A posto Io ho aperto la testa E ci sono ragazzi Di tutto il mondo Che seguono Questo ex Disgraziato Ora un po' Di grazia Poco poco Penso che ci dovrebbe essere Vedete i capelli Che è entrata Ecco Allora Anche voi Siete chiamati Ad aumentare La frequenza Per Saperne di più Avere più forza Per Aiutare gli altri Con Gesù Perché Chi fa la volta Di Gesù È Più forte Di tutti Diceva San Massimiliano Maria Colber Quindi Adesso Parleremo Di quello Che abbiamo fatto Detto all'inizio Come fare La comunione Con Gesù Non è solo Si arriva là È il corpo di Cristo Non è solo questo E si accapava Ci arrivava a capo Allora a termine Non è solo questo Come ben sapete Già tutti Questo è un modo Come voi Poi potete dire Anche agli altri Che non è solo questo Non è che Appena lo blocchiamo Così Faccio un esempio Veloce veloce Io Oggi Ho fatto la comunione Con Gesù Non voglio bene Gesù Poi passa uno Disgraziato Ha fatto questo Ha fatto quest'altro Però non è così C'è i corna Però non è così E che comunione Che comunione Ma proprio è bella Oppure Io Un zanno Quasi quasi Io Guarda dentro la messa Io 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 Poi esce Tutto parola di Dio Comunione Confessione Tre rosa del giorno Uno Uno Farrabbiare E gli donzo le piatte Proprio è uscito dalla messa Fresco fresco E Possibilmente la sera prima Qualche frate Gli aveva detto Ti raccomando Gesù Gesù sta in groce Non è che Se qualcuno Da un geffone Tu che fai Stai in groce Oppure scendo dalla groce E gli fai solo le piatte Stai in groce E perché Dobbiamo stare in groce Cioè perché Dobbiamo stare in comunione Con Gesù in groce Perché Dobbiamo stare in comunione Di vita con Gesù in groce Chi me la fa fare A non ci dare la distrata O Di un bozzo Come si dice a Palermo Oppure a Marsala Perché non lo faccio Perché voglio risuscitare Perché voglio risuscitare Dalla cassa da morto Come Gesù Per questo Non ci faccio solo le piatte Ecco Allora la comunione di vita Ci costa Però il premio è così grande Che dobbiamo riuscire Anche a porgere L'altra guancia Morale Morale Sperato male Fisica Se no Ressiamo di essere Come quelli dell'Isis Allora Che poi Quelli dell'Isis Non sono completamente In comunione O Corano Perché nel Corano C'è scritto Che se tu ammazzi Una sola persona Una Una Che non va contro Allah Che non va contro il profeta E che non sparge corruzione Sulla terra Se tu ne ammazzi una Ammazzi il mondo intero Ora Questi qua Che ammazzano i cristiani Specialmente Quelli che si vogliono fare santi Perché uno che non scappa da lì E gli puntano la pistola Vuol dire che ci crede Allora questi Sanno ammazzando il mondo intero Infatti Si sta allargando E poi ci ha messo nel Corano Che se tu salvi Una Una persona O un bambino O una bambina Una Che non va Contro Dio Che non va contro il profeta E che non sparge corruzione Sulla terra Tu salvi Il mondo intero Io ci ho fatto il video Su questa cosa Testo Fronte Arabo E italiano L'ho messo su internet Più da ammazzare Non mi possono Ma la verità qualcuno Gliela deve dire a queste qua Perché sono ingannate Dal demonio Perché uno che si fa saltare in aria Significa che non ha capito niente Dal Corano Poi c'è scritto nel Corano pure Che Gesù Dice Che fino a quando voi Gente del libro Non obbederete al Vangelo Al Vangelo Quella di i cristiani Gesù dice nel Corano Fino a quando Non credete Al Vangelo Siete sul nulla Non credete Obbederete Fino a tanto Che non obbederete Al Corano Al Vangelo Siete sul nulla Gesù Lo dice Nel Corano E ce n'è tanti altri Passi nel Corano Allora Vedete anche Nelle altre religioni Bisogna imparare Ad essere in comunione Con Dio Veramente Sapete come si chiama Dio In Iraq Come lo chiamano Gli arabi Dio in Iraq Normalmente I musulmani Lo chiamano Allah Sapete i nostri cattolici Come lo chiamano Dio in Iraq Allah E' lo stesso Dio Poi ci sarebbe Facciamo Le catechesi Del galo Interreligioso Le ho fatte Se volete Andate a vedere Il video Sul sito Frati Poveri E ci sono tutte Le catechesi Che abbiamo fatto E c'è La terza tappa E c'è Anche Tutto quello Che spiego Sui musulmani Ma adesso Dobbiamo parla Della comunione Con Dio Dice L'antico Tesamento Di cui parla Anche il Corano Perché E' pieno E' il Corano Pieno 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 Che dice La Torah L'angil E il Corano Cioè Il Pentateuco Il Vangelo E il Corano E' pieno Se voi prendete Quelle applicazioni Un Corano Ci vedete Quante volte C'è scritto O Vangelo Sennò Per fare la produzione Più bella Ci hanno messo In gym Così nessuno Non capiamo Che significa Quello di Gesù E quindi C'è scritto Anche questo Il Corano Ci ha messo Di leggere Quello che stiamo Leggendo noi Ecco Il vero musulmano Cioè Quello che è Sottomesso A il Allah Cioè Al Dio Non un Dio Il Dio E quello Tutto quanto Dovremo essere In comunione A questo Dio In Gesù Ora vediamo come Nel Vecchio Testamento Leggiamo Sempre figura Dice Il Levitico Il Levitico È un libro Che nell'Antico Testamento Parla solo di leggi Devo fare così Devo mettere così Devo fare questo Ci deve mettere qua Quello Troppo Legalista Però Ci vuole anche questo Se uno offre In ringraziamento Offrirà Con il sacrificio Di comunione Focacce Senza lievito Indrise Con olio Schiacciate Vedete Quindi In ringraziamento Vedete Il rendimento Di grazia Quindi Eucaristia Poi Il Nuovo Testamento Eucaristos Quindi Il ringraziamento Offrirà Con Sacrificio Di comunione Quindi L'Eucaristia Che noi facciamo Ci dobbiamo sacrificare Per vivere in comunione Non solo Tra di noi Ma per vivere In comunione Tra di noi Prima dobbiamo Vivere in comunione Con Gesù Questa è la figura Un altro passo Che dice In Siracide Chi adempie Chi adempie I comandamenti Offre Un sacrificio Di comunione Quindi Primo Comandamento Scema Israele Non è scema O scemo Cioè Ascolta Israele Io sono il segno Dio tuo Secondo comandamento Non nominare Il nome di Dio In vano Ma no che non si può nominare Che non manco Possono dire Yahweh Vedete come Si estremizzano le cose Si può nominare In vano Non si può nominare Cioè Ammatala Inutilmente Ecco Quindi Eccetera I comandamenti Quindi Chi si sforza Di vivere i comandamenti Che sono dieci Semplici semplici Offre un sacrificio Di comunione E' un sacrificio Vivere i comandamenti E' un sacrificio Di comunione Quindi Se vogliamo stare In comunione con Gesù Potete dire Nelle catechesi Che farete Dobbiamo osservare I comandamenti Specialmente Il terzo Ricordate Deve significare le teste Può non dire bugie E così via Sapienza 8.3 Essa la sapienza Manifesta La sua nobiltà In comunione Di vita con Dio Vedete Allora La sapienza Manifesta La sua nobiltà La sua bellezza Il suo splendore Perché è In comunione Di vita con Dio E ci dice a noi Che dobbiamo essere In comunione Di vita con Dio Perché il Signore Dell'universo L'ha amata Mosè Parla sacrifici Di comunione La mangerai E ti rallegrerai Sembra un passo così Che l'abbiamo letto Che significa Se tu fai la comunione Che la mangi Non solo Sacra mentalmente Ma Mangi Mastiche Non posso prendere La schiappa a quello Eccetera Allora Ti è messo qui Ti Rallegrerai A me una volta Mi è capitato Era istica Poi parlo all'inizio Poi parlo all'inizio Prent'anni fa Giovanni Ti faccio un amico mio Amo nenne Che a qua non è aria Cioè andiamo Che qui non è aria No ma stiamo Che dobbiamo evangelizzare Sì Vabbè perché dobbiamo evangelizzare Però Vedi il quadro Non è maturo Stasera sono Nostra Ehi fratello Non era Momento di evangelizzare Che c'è fai Insomma Ci siamo messi a parlare Io poi sono sempre stato Un po' caldo di cervello Ho detto una parola forte Quello era No come una panele Era versione lunga Come una panele E poi da volta De Fra Giuseppe Insieme a Mario Una bestia Una armadio Questo si è arrabbiato Boom Ho fatto così Boom E sono volato indietro Sembrava un uccellino Tipo fra volantino Che vola al contrario Boom Però ancora non ero frate Era all'inizio Quindi Ero lottato Tra il vecchio uomo E quindi il diavolo Mi diceva E che ci fa Guarda Susi Perché tutti quanti Ti conoscono Quindi tu ci vai Verso la testa Quello ti guarda Se guarda la faccia Poi piglia i piedi Puglia in terra Pata pata E poi Vomene E così ti fa vedere Che sei forte E però Mendo dall'altra parte Dell'essere mio Della coscienza Il mio Il sacramento Di Dio Mi diceva No Stato in cruci Hai fatto l'esperienza Di Gesù Adesso che fai Scendo dalla croce Ma come vuoi resuscitare Vuoi diventare immortale Con il corpo E già fai tutte Queste mosse Di judo Di grado Eccetera Stato tranquillo Allora Ero così Ero lottato Perché non A me A mio paese Mi ha fatto fare Una brutta figura Mi ha fatto volare A me Io 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 Ci mancava Addì Così facevo Dio Ecco Capito Però Ho pensato No Devo stare in croce Perché voglio resuscitare Allora Mi sono alzato Mi sono Spazzato un po' De polvere Perché avevo volato Era volato E gli ho detto Fratello Fratello Vedete già Siamo figli di Dio Se tu Hai fatto Questo A me Significa Che io Ti ho fatto arrabbiare Ti ho detto Forse qualche parola Che non andava Quindi ti chiedo Umilmente scusa Quando gli ho detto Così Questo ha fatto così Era così No? Fratello Se ti ho detto Qualche cosa Ti ho sbagliato Ti chiedo scusa Che gli ho detto Forse era troppo forte Ancora dovevo Prenderci la mano Quello ha fatto così Guarda Se ci ho confiato Ce ne siamo andati A prendere Qualche cosa da bere Amici Amici Siamo diventati amici E quindi Come dice qua Mi sono rallegrato Mi sono rallegrato Di non adegli Fatto male Anche se a due metri Io ce l'avevo in mente Come farlo Allora Perché uno fa La parte del fesso La parte Del scemo Dello scemo Perché Mi interessa Risuscitare Mi interessa Diventare un principio immortale Mi interessa Diventare Alla fine Una persona Che vive Eterno Beata Non dannata Quindi Andiamo direttamente Saltiamo Alcune cose Se qualcuno Dice Sempre il levitico Presenterà Il Signore In sacrificio Di comunione Un bovino O un ovino Sia per edempere Un voto Sia come offerta Spontanea La vittima Perché sia gradita Deve essere perfetta E non avere Alcun difetto Noi quando presentiamo Le cose al Signore Non gli dobbiamo Presentare Lo scarto Il meglio Lo dice già la scrittura Deve essere Qualcosa Deve essere Il meglio Per il nostro cuore Non un scarto O per essere ancora Più chiari Questo passo Vuol richiamare Il passo Di Gesù Che dice Non siate perfetti Perché in greco Non c'è scritto Siate perfetti Come perfetti Il Padre vostro In greco C'è scritto Sarete perfetti Cioè se facete La volontà di Dio Se facciamo La volontà di Dio Saremo Perfetti Saremo Perfetti Quindi già il Signore Vede il nostro bene Futuro Non ne vuole cose storte O stroppiate Vuole cose perfette Quindi noi dobbiamo Diventare perfetti Come perfetto Il Padre nostro Che nei cieli Il calice Della benedizione Che noi beviamo Ecco dove è scritto Poco fa dicevo Dove è scritto Sto storico Che dobbiamo essere In comunione Perché se Mi facessi una domanda In questo momento Dove è scritto Che noi dobbiamo essere In comunione Boh Ho un ne è scritto Cioè dove Dove Allora Leggiamo I 1 Corinthians 10 Il calice Della benedizione Che noi benediciamo Non è forse comunione Con il sangue di Cristo E il pane Che noi spezziamo Non è forse comunione Con il corpo di Cristo Ora Questo calice Che noi Benediciamo Dice Paolo E questo pane Che noi spezziamo Non è solo quello Che è l'aria Nell'altare Non è una cosa magica Questo calice Che io bevo Quando do la comunione E poi specialmente Da diacono Adesso Alla fine A volte sono pieni Quindi devo stare Poi attento Quando Ecco Bevo il calice Del sangue di Gesù Ma io ci penso Non è solo questo Che devo bere Devo mandare giù Quando una cosa Non mi piace Quando una cosa Non mi piace Però So che se la mando giù Porta frutto Non perché Sono mio babbo E non mangio Tutte cose Ma quando capisco Se questa cosa La posso evitare La mando giù E poi Questa cosa Porta frutto Questo mi permette Di aiutare più persone Mi permette Di portare più frutto Di aiutare più persone Sempre la testa Allora Questo calice È benedetto Veramente E porta frutto Questo pane spezzato Per esempio Noi che siamo poveri Il vescovo ci ha affidato La mensa dei poveri Già noi Non ci abbiamo Manco gli occhi Per piangere Anzi Ce l'abbiamo per guardare E a bocca Per evangelizzare Ci ha affidato la mensa Rino è rispetto Con la providenza E anche con Masterchef Noi ci abbiamo le braccia Lo aiutiamo Però Ha responsabilità Il vescovo Ma l'ha dato a me E io Vedo Chi più o meno Ci riesce Più i volontari Che vengono Quasi tutti i giorni Oppure chi viene Tutti i giorni Sta mensa funziona Non so come Di preciso Ma funziona C'è chi ci usa il cervello Ma il cervello Ce l'ha dato Dio Per essere in comunione Con Lui Allora Non è solo Quello spezzare il pane Quello è Gesù Che si spezza per noi Ma anche noi Ci dobbiamo spezzare E come diceva Un sacerdote In questi giorni Dobbiamo diventare pane Per gli altri Pane Che quando le persone Lo vedono E mangiano Anche il nostro esempio Che è quello di Gesù Ricevono la forza Poi Giovanni Parla della comunione Riconoscendo la grazia A me conferita A Giacomo Cefa E Giovanni Ritenute le colonne Dietro a me E a Barnaba La loro destra In segno di comunione Allora Ci sono tante Tante religioni Che nascono Tipo i mormoni I mormoni Come sono nate C'era il fondatore Che ha avuto una visione Io credo Che lui L'ha avuto questa visione Ci credo Ci voglio credere Ecco Per essere più Prudente Ci voglio credere Ok Che l'ho visto San Pietro e San Paolo Che ci mettevano Gli mettevano le mani in testa E quindi Lo In qualche maniera Abilitavano Ad essere Un apostolino In qualche maniera Anche Paolo Prima che Anania Ci andasse E ci mettesse E avesse messo Le mani in testa Ha avuto la visione Ma poi lo stesso Paolo Ha avuto bisogno Della chiesa In primis Per avere la vista Perché era cieco Non aveva capito Niente del cristianesimo Con tutti i studi Che aveva Che era stato Alla scuola di Gamaliele Non aveva capito Una mazza Di Gesù Una mazza Era cieco In questo senso Questo è sicuro Che era cieco In questo senso E poi Una persona Della chiesa Gli ha aperto Gli occhi Allora Questa Questo nostro Modo di Volere essere In comunione Con Gesù Anche Paolo Cosa ci dice qua Ci dice Che anche lui Riconoscendo La grazia A me conferita Giacomo Dio Ora è una cosa Ora è una cosa semplice Poi vediamo Chi indovina Adesso dietro Quello che io dirò A Raffica A mettergli a dire Vice A stile libero Adesso vi faccio Un piccolo elenco Dettagliato Di come vivere In comunione Di come vivere in comunione con Gesù Botta e risposta Domanda e risposta E poi alla fine Se volete Mi direte Dove ho preso Queste fonte Gesù È vissuto In questo modo Noi Stiamo vivendo In questo modo Cominciamo Da qui Gesù È stato concepito Da Maria In modo immacolato E poi Ha partorito Dio Noi Se vogliamo concepire Gesù Nella nostra vita Siamo attenti Non ci distraiamo Conceviamo In un modo immacolato La verità Che è Gesù Gesù È stato concepito Da Maria Per venire in questo mondo Per salvarci Gesù È stato portato Da Maria A Giovanni Battista Che danzava Nel ventre Di Elisabetta Noi Ci facciamo portare Dalla chiesa Che Figura Somigliante Molto Alla fine La chiesa Con Maria Noi ci facciamo Trasportare Nei nostri Discorsi Nel nostro pensare Secondo Dio E secondo la chiesa Gesù È nato povero In una stalla Dove c'era La cacchina Puzza La paglia La povertà Era proprio Basta che nasce Con un po' di calore umano Neanche animale L'importante È nato in una stalla Noi siamo Siamo rinati A vita nuova Da veri cristiani Staccati Delle cose materiali Gesù Si è fatto portare Al tempio Gli è dato Un taglietto E prepulsio Si è fatto Circoncidere Noi ci andiamo Al tempio E tagliamo Col peccato Proprio nel punto Lì Dove c'è Quello che Ci fa sbandare Tante volte Quante persone Sbandono con queste cose Sono tutte cose Fine Gesù Si è messo in mezzo Ai dottori A fare domande Noi quando ci abbiamo Una domanda Cosa facciamo Facciamo i curiosi E i professori Ma dal prete Non ci andiamo mai A confrontarci Da chi Magari Ne sa un po' di più Dal vescovo Manco se ne parla Tanti di noi A volte Rischiano di fare questo Gesù invece Domandava Il dottore Cosa ne pensa Gli faceva le domande Noi gliele facciamo Le domande Gesù Si è battezzato Da grande Ecco Noi I nostri figli Li facciamo battezzare Da grande Li facciamo Confermare Il battesimo Da grande Perché Gesù Si è fatto Circoncidere Perché c'è un motivo Perché Allora San Paolo dice Che la vera circoncisione È il battesimo Quindi per noi Oggi La vera circoncisione È il battesimo C'è Essere immersi Con tutti i vizi E risorgere Alla grazia E nella grazia Gesù Andava nei matrimoni E Faceva il miracolo Del vino Noi ci andiamo I matrimoni E parliamo Dello spirito divino Gesù Annunciava Il regno di Dio E mandava gli altri Ad annunciare Il regno di Dio Noi lo facciamo Questo tutti i giorni E aiutiamo gli altri A annunciare il regno di Dio Che cosa Dove Dove li sto prendendo Queste ponte Quello che sto dicendo Dove l'ho preso Nel Vangelo sicuramente Ma dove Nel I fratelli non rispondono Alle sore perché già sanno Che da loro non possono parlare Perché lo sanno Dove li ho preso Questi esempi Nel E ai misteri del ro E ai misteri del rosario Vi sto facendo fare il rosario In 5 minuti Vedete ho parlato Del battesimo Della noce di cana Della noce di regno Di Dio Gesù Si è trasfigurato Noi Ci trasfiguriamo Come la luna C'è il sole C'è la luna C'è la terra C'è sempre tra noi E il sole Che è Gesù Il sole quel normale Figura di Gesù C'è sempre questo attaccamento Al pianeta della terra Alla terra Se c'è C'è l'eclisse La luna Non si vede Perché la chiesa È come la luna Come la luna Quando è piena E splende Della gloria Dello splendore del sole Così la chiesa L'anima cattolica Deve splendere E risplendere Dello splendore Della gloria Di Dio Immortale E di immortalità Gesù Ha istituito L'eucaristia Noi che cosa facciamo Per portare le anime L'eucaristia Gesù Ha gettato il sangue Per la nostra salvezza Noi Quanta vita Quanto sangue Sprechiamo Per la salvezza Degli altri Gesù Quasi se l'ha fatta sotto Sudava sangue E chi Aveva capito Che lo potevano ammazzare Però Ha detto Fiat Voluntas tua Si è fatta La tua volontà E non la mia E un angelo L'ha consolato Noi lo diciamo Sì Quando riusciamo A capire Quale è la volontà Di Dio Che poi Non è così difficile Gesù è stato Fragellato Alla colonna Se l'ha piantata Era lì Noi Riusciamo A sopportare Quando gli altri Ci sfagellano Alle spalle Invece Siamo noi Quelli che sfagelliamo Agli altri Gesù portava La croce Che è fatta Di due tavole Della legge Noi Nel telefonino Ce la mettiamo La Bibbia Perché le due tavole Della croce Ci richiamano Le due tavole Della legge La tavola Della legge antica La tavola Della legge nuova Cioè La Bibbia La rivelazione pubblica Antico E il nuovo testamento Chi mi ama Prenda la sua croce Rinega ogni giorno Se stesso E mi segua Chi mi ama Cioè Chi mi vuol servire Ogni giorno Rinega Se stesso Non dorma Sveglia E tu Prenda La sua croce E mi segua Noi la prendiamo La nostra croce Cioè La nostra Bibbia Capito? Quando Gesù dice Chi mi ama Prenda la nostra croce Prima di tutto E chi prende la Bibbia La leggiamo la Bibbia Tutti i giorni Ce l'abbiamo La Bibbia addosso Non dico come noi Ma non telefonino Ce l'abbiamo quasi tutto Questi telefonini È un'applicazione La mettete E ci vedete la Bibbia Con cerca parole pure Gesù è morto in croce Noi ce l'abbiamo Il chiodo fisso Per morire in croce Per risuscitare Gesù è risorto Noi risuscitiamo Nella volta alla settimana Con la confessione Da morti Che eravamo per i peccati Siamo ritornati alla vita Gesù è asceso al cielo Noi cerchiamo Di scendere al cielo Facendo tante opere buone Come diceva San Benedetto Di Norcia Più opere facciamo Più saliamo E ci avviciniamo al cielo Gesù ha mandato Lo Spirito Santo Nel piano superiore Per la preghiera Degli apostoli Noi cosa facciamo? Soffiamo Diciamo sciocchezze O diciamo le parole di Gesù Che sono Spirito e vita Sto facendo il rosario Sto facendo il rosario Vedete come Sto facendo la sintesi Ma il rosario ci serve Per farci ricordare Come imitare Gesù E poi Noi insieme a Gesù Perché quando Gesù Ascende in cielo Ho finito Quando Gesù Ascende in cielo A parola chiave Giuseppe ci correggerà Se sbaglieremo Dice E' stato assunto In cielo Gesù è stato assunto In cielo Quindi Maria Viene assunta in cielo A immagine di Gesù Prima dobbiamo essere assunti Nel cantiere Dall'ufficio collocamento Mi ricordo quando c'erano Gli uffici collocamenti A mio paese Tutti là facevano la fila Per essere assunti al lavoro Allora se noi Siamo assunti Nel cantiere dell'amore Che è la chiesa Ecclesia La nuova caola Nel mondo ebraico Allora noi Un giorno Qua siamo assunti Che ci bracciamo le maniche Per trovare un posto Nella chiesa E operare il bene Secondo Dio E secondo la chiesa Che è il corpo di Cristo Allora noi un giorno Saremo assunti Non sotto terra Ma sopra la terra In cielo E poi saremo anche Coronati Con una bella corona Che cos'è sta corona Le anime che si salvano Se noi imitiamo Gesù Vedete Abbiamo fatto il rosario In un minuto Se quando meditate il rosario Fate una piccola meditazione Anche un minuto La Madonna A Fatima Dice ai bambini Vi ricordate questo passo Forse l'ho detto Meditate un minuto Il rosario Al fine Un mistero Cioè ogni mistero Un minuto Al fine Di offrirmi Riparazione Francesco Dice Gesù A San Francesco d'Assisi Va e ripara La mia casa Quindi noi ripariamo Come diceva Il vescovo Sorrentino Di Assisi Attuale vescovo di Assisi Prima E contemporaneamente Ripariamo lo stesso E ripariamo gli altri Che cosa ripariamo? I cactus O i figli Cosa ripariamo? Ripariamo il modo di pensare Che ognuno pensa a Dio In modo suo Lo deve pensare Secondo quello Che è scritto nella Bibbia E allora Come facciamo a leggerci la Bibbia? Se meditiamo i misteri Perché siccome la Bibbia Non ce la leggiamo Quindi quando meditiamo i misteri Meditiamo i misteri Della vita di Gesù Noi siamo nati Per questo Siamo nati Per questo Sapete cari bambini Giovanotti Abbiamo finito Sapete perché siamo nati? Siamo nati Per conoscere Gesù Leggere il Vangelo E metterlo in pratica Tutto il resto Finisce in una cassa da morto L'unico che ci può far uscire È Gesù Per questo mi sono fatto fra Perché lui me l'ha messo nel cuore Questa cosa qua Tutta la mia vita Deve essere dedicata A Gesù Non tutti possono fare questo Però ognuno Nella povera misura E le cose che ho detto io Alcune le ho lette E alcune ve le ho dette Non c'è bisogno Di due lauree Per dirle Potete scaricarlo Gratuitamente Dal sito Fradipovere Punto net Catechesi Video E poi ci sono Il video Che io parlo Ci sono le fondi E queste cose Gratis Per scaricare Per proporre Dal parroco Una cosa cattolica Che significa Universale Per tutti E gli fate le catechesi Pure voi Leggendo e spiegando Come meglio potete Tanto già c'è tutto qua La storia Di quello che è il tema Che ci interessa Finito questo Finito questo Finisco perché non posso leggere tutto Ve racconto solo una storia Perché ho visto che Alla fine delle catechesi Quello che vi rimane di più Sono le storie O storielle O balsalette Guardate la Ferrari Perché guardate quella della Ferrari O le cose Concrete Che Per essere in comunione con Gesù Una volta mi trovavo A Catania In una parrocchia del Lebrino Quindi brutta parrocchia Cioè brutta non una parrocchia L'ambiente che si respirava Qualcuno mi ha fatto arrabbiare Era all'inizio Del mio cammino Già ero vestito da frate Come si dice in tessiliano Mi fanno scattiare Allora se io già Non ci vuole assai Scattiare Sono andato davanti a Santissimo Mi vedete sempre tranquillo Sereno Però ogni tanto mi pigliano Pure a me Allora Mentre che ero nervoso Cosa ho fatto Mi sono ricordato Mi vado a mettere in ginocchio Davanti a Gesù Così Gli dico un po' di pace Perché immagini il frate Che sembra così Arriva Così brutto Allora sono andato davanti A Santissimo Sapete Mi sono inginocchiato Cos'è successo Una cosa ordinaria Normale Mi sono inginocchiato Gli occhi Mi sono caduti Sullo sportello Del tabernacolo E c'era l'agnello Immolato Ma così bello Così non si vedo Subito ho capito Il messaggio Stato manso Cioè Stato tranquillo Come l'agnello Se vuoi risuscitare Devi imitare anche qui L'agnello Stato tranquillo Ecco Allora possiamo dire le cose Con fermezza Con Come dice il vescovo Quando si sta per arrabbiarsi Io non mi arrabbio Diciamo Mi sono fatto prendere Dalla passione Ecco E allora Noi Se saremo In comunione Con Gesù Come Qui ci sono i documenti Si può leggere Se saremo stati In comunione Nelle sofferenze Nelle pazienze Nel non dare schiaffa Nessuno Nel venito a messa Eccetera Allora Un giorno Saremo In comunione Con Gesù Risorto Quando noi diciamo Risuscitò Risuscitò Ora la cantiamo Questa qua Risuscitò Risuscitò Alleluia Cioè Risuscitò Significa Anistemi Come dice Giuseppe Io mi alzo Ma da dove? Dai fichi Mi alzo Dalla morte Dalla cassa da morto Anche quando c'è solo un scheletro Mi alzo Mi alzerò Con la carne Bello Per sempre Giovane Immortale Non muoio più Non ho più paura della morte Per sempre Sempre Se non ci pensa Per questo ci conviene Amare Gesù Come Pietro Mi ami tu più di costoro? Pasci i miei agnelli Pasci le mie pecorelle Pasci le mie pecorelle Quindi anche voi Pasci le pecorelle Perché Gesù dice Chi Entra Nel reginto Delle pecore Gesù è la porta Diventa Pastore Delle pecore Quindi anche voi Siete pastorelli Che dovete pasciare Non solo voi stessi Ma anche gli altri 했i Ma proprio Questo non da passare Presidente È una persona niente E Зна Berlo Come ho detto Ma non era Come era Perché Sera Amato Tubi C'era Delle pecore C'era Io non ero Con' esta Però Il regrets Sareò Sono L' pouquinho P Roccatág Goğ Güss Sa Sare Sare Poi Delle pecore Delle sindrote Sic небольшое il Signore sia con te e cuore il tuo spirito amore grazie a Dio e cuore il tuo spirito e cuore il tuo spirito e cuore il tuo spirito